Al di là del fatto di incentivare feedback, di avere la trasparenza e così via, poi dopo ogni azienda dovrebbe anche portare avanti una propria impronta, perché comunque ogni azienda ha il suo DNA, deve operare in un certo contesto, per esempio nel mio caso mi viene facile dire che ad esempio in no team c'è un valore che è quello dell'insegnare e imparare, cioè essendo una realtà di consulenza, soprattutto verso tech companies, le persone non devono mai considerarsi arrivate, anche quelle che sono già esperte devono comunque avere l'umiltà di dire ok, comunque voglio imparare anche dai miei colleghi, anche da persone che magari sono percepite come più junior o meno esperte, al contempo però devo anche continuamente insegnare agli altri, non tenermi tutto per me. Quindi dopo sono anche queste cose qui proprio di valori o anche il condividere le difficoltà, quante volte succede che magari singole persone vengono abbandonate al loro inferno nel, che ne so, consegnare un certo progetto o risolvere un incidente in produzione e il poveretto viene abbandonato, invece c'è una regola che appunto è un valore aziendale di non far sentire le persone sole, anzi assisterle anche in questi casi. Quindi dopo tutte queste cose qui che vanno aggiunte, che contribuiscono a crearla questa cultura.